Prima di partire col video vi rubo giusto due secondi per dirvi che ho aperto il profilo TikTok del canale, quindi da oggi potrete trovarmi anche su TikTok Bodybuilding News Italia e anche lì cercherò di postare molti contenuti. Chiuso questa parentesi passiamo al video vero e proprio. Allora, chi è stato il miglior bodybuilder, il miglior atleta del 2023? Ieri vi ho messo un sondaggio nella sezione community in cui vi ho chiesto di decretare il miglior bodybuilder del 2023 a livello di risultati, quindi non di fisicità secondo i vostri gusti. E ho messo quattro opzioni, Samson Dauda, Derek Lansford, Nathan Diascia e Andrew Jacket. Perché ho messo questi quattro? Allora, Samson Dauda ha vinto un Arnold terzo all'Olimpia e ha vinto anche due Pro Show. Derek perché ha vinto l'Olimpia, Nathan Diascia perché ha vinto due Pro Show e Andrew Jacket perché è arrivato terzo all'Arnold Classic. Ha vinto un Pro Show, il Texas Pro ed è anche arrivato quinto in Top 5 all'Olimpia. Il primo e il secondo posto sono molto vicini e avete decretato come miglior bodybuilder del 2023 a livello di risultati, Derek Lansford, anche se secondo me è Samson Dauda. Nura da togliere a Derek, ma secondo me l'atleta che ha avuto i risultati migliori quest'anno è Samson Dauda perché ha vinto un Arnold Classic al suo secondo Arnold di sempre. Terzo all'Olimpia, al suo secondo Mr. Olimpia di sempre e ha vinto subito due Pro Show di fila con line-up veramente molto importanti. Mentre Derek ha vinto solo, tra virgolette, il Mr. Olimpia, quindi ha fatto solo una gara. E quindi secondo me l'atleta che ha mostrato veramente i risultati è Samson Dauda perché ha fatto la sua migliore stagione di sempre. È partito con la vittoria all'Arton Classic, un po' controversa, però comunque è riuscito a vincerlo, battendo Nick Walker che era off. E poi è arrivato terzo al Mr. Olimpia. Non c'era Nick Walker, è vero, però comunque il terzo posto se l'hai portato a casa. Ed è arrivato terzo solamente al suo secondo Mr. Olimpia. E in più, poi, qualche settimana dopo, ha dimostrato di aver meritato il terzo posto perché ha vinto due Pro Show, il Romania Muscle Fest e il Prague Pro. Quindi secondo me Samson è quello che ha avuto i risultati migliori quest'anno. L'anno scorso era Endoject perché ha vinto la Pro Card, ha vinto due Pro Show ed è arrivato in Top 10 all'Olimpia solamente in un anno. Nel 2021 è stato Nick Walker, il miglior bodybuilder, perché ha vinto New York Pro, Arton Classic ed è arrivato anche quinto al Mr. Olimpia. E nel 2020, boh, non mi ricordo chi è stato. Secondo me Samson al 90% farà la stessa cosa anche nel 2024. Secondo me c'è un'altissima probabilità che lo vedremo sul palco dell'Arnold anche tra pochi mesi, nel 2024. In primis perché a lui, abbiamo capito, piace gareggiare. Perché era da tantissimi anni che non si vedeva un Top 3 all'Olimpia fare subito una gara di qualifica per l'anno successivo, anche se si è già qualificati. Quindi a Samson piace gareggiare. E in più, anche a Milos piace vedere i suoi atleti gareggiare molto. Quindi secondo me Samson farà l'Arnold l'anno prossimo e molto probabilmente se non ci sarà un line-up con Adichupan e Derek Lansford, sarà lui a vincerlo. E molto probabilmente arriverà di nuovo o terzo o quarto al Mr. Olimpia. E spero di vedere di nuovo la sfida tra Nick Walker e Samson, che quest'anno purtroppo non c'è stata. Mentre, parliamo di Derek Lansford. Allora, Derek Lansford ha saltato l'Arnold Classic per concentrarsi solo sull'Olimpia. Se avesse fatto l'Arnold Classic lo avrebbe sicuramente vinto. Assolutamente. Ma ha voluto saltarlo per effettuare i miglioramenti necessari al suo fisico per vincere il ministro Olimpia. E alla fine ce l'ha fatta. È riuscito a vincerlo. È stata una mossa rischiosa e io onestamente quando ha annunciato che non avrebbe fatto l'Arnold Classic ero rimasto un po' a bocca aperta e gli avevo dato un po' del folle perché aveva rinunciato a 300.000 dollari. Però alla fine è riuscito a vincere 400.000 quest'anno all'Olimpia. Purtroppo ora, anzi come sempre, vedremo Derek una volta all'anno. Lui ha sempre fatto una gara all'anno. È dal 2017 che fa solo l'Olimpia ogni anno. Non ha mai fatto due gare in un anno da molti anni. Anzi, l'ultima volta che ha fatto due gare in un anno fu quando era ancora amateur. Da quando è un pro ha sempre fatto una sola gara all'anno. Ed ora le probabilità di vederlo gareggiare un'altra volta all'anno, escluso il ministro Olimpia, saranno ancora più basse perché è un ministro Olimpia. Ed è super, iper, mega raro di questi tempi vedere un ministro Olimpia gareggiare ad una gara fuori dal ministro Olimpia. Perché appunto non vuole essere battuto e perché non vuole fare una brutta figura in un palco fuori dal suo dominio. Quindi, a quanto pare, dovremo vedere Derek su un palco solamente una volta all'anno. Comunque, fatemi sapere la vostra, fatemi sapere chi secondo voi è stato il miglior bodybuilder del 2023. Se è stato Samson Dauda o Derek Lansworth, fatemelo sapere. Vi chiedo il like e un commento come al solito e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.